Seggi aperti dalle sette anche in Irpinia dove si recano alle urne nei 118 comuni della provincia, 334.264 elettori, sono 501 le sezioni, 72 quelle del capoluogo. Il centro-sinistra, l'uninominale alla Camera schiera Maurizio Petracca, il centro-destra risponde con Gianfranco Rotondi, il Movimento 5 Stelle si affida a Michele Gubitosa. Gli altri partiti, Vita, Lancia, Stella Macario, Unione Popolare, Paolo Vittoria, Noi di Centro, Guerino Gazzella, Italexit, Rosario Rocco del Priore, il Partito Animalista, Lucio Iagnello, Azione Italia Viva, Stefano Farina, Italia Sovrana e Popolare, Raffaella De Filippo. All'uninominale al Senato la sfida è tra Carlo Iannace, centro-sinistra, Giulia Cosenza, centro-destra e Maura Sarno 5 Stelle. In campo anche Unione Popolare con Tiziana Salvetti, Italexit con Teresa Caputo, Noi di Centro, schiera Armando Rocco, Azione Italia Viva, Francesca Mite. L'Irpinia, dopo la riforma, conserva un solo collegio uninominale, quello della Camera, mentre al Senato è con Benevento. Sono in tutto sette i deputati e sei senatori che Avellino contribuirà con altre province a mandare in Parlamento. Quanto al proporzionale, Avellino rientra negli accorpamenti stabiliti nella circoscrizione Campania 2. Alla Camera gli elettori irpini voteranno con i residenti della provincia di Salerno per indicare sei deputati. Al Senato il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta, fa parte di un collegio unico in cui rientra anche la gran parte della provincia di Salerno, 137 comuni, per eleggere complessivamente cinque senatori.